Senti, mamma, possiamo parlare di papà? Come mi chiamo? Garmadon! 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 Insomma, quando voi vi siete messi insieme, papà era già un perfido signore della guerra? Ok, è andata così. Mi ha stregato. Era pieno di progetti, così ambizioso. Diceva di voler conquistare il mondo. Credevo fosse un modo di dire. Ma se non avessi incontrato Garmadon, non avrei avuto tempo. Ciao. Suo padre è un distruttore. È Garmadon! Potrei andare in bagno! Via libera! Studenti, un vero ninja sa quando combattere e quando nascondersi nell'ombra. Non è possibile. Avanti, ragazzi! Catturiamo Garmadon! Non mi prendi ninja verde! Sta a vedere! Da dove è arrivato? Buongiorno, papà! L'Eloid? Esatto! E si dice Lloyd, papà! Sì, ma credo che su Garmadon io debba saperne di più. Per capire il tuo futuro, devi tornare alle tue radici ninja. Tuo padre un tempo era un ninja. L'Eloid, lo senti? Abbiamo risvegliato la bestia inarrestabile! Miaudra! Siete pronti a rischiare la vita per Ninjago? Ninjago! Non mi sentivo così in forma da un sacco di... L'Eloid, stai bene? Sì, sì, credo che sia il braccio. È grave. Non voglio guardare. Su una scala da 1 a 10? Quanto è grave? Direi che è circa un sette punto braccio staccato. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, Vittoria e Abdul. Al nono posto, il ragazzo invisibile seconda generazione. All'ottavo posto, Baby Driver. Al settimo posto, Thor Ragnarok. Al sesto posto, la battaglia dei sessi. Al quinto posto, Valeria nella città dei mille pianeti. Al quarto posto, Kingsman, il cerchio d'oro. Al terzo posto, Star Wars, gli ultimi Jedi. Al secondo posto, Dunkirk. E al primo posto, It. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito, blog.screenweek.it. Ciao!